Complimenti alla scuola secondaria del classico di Tornareccio, del lavoro che avete svolto e per questo premio che ricevete oggi. Grazie, io vorrei ringraziare a nome tutta la scuola secondaria dell'istituto comprensivo di Tornareccio, i Life in Terra Climate Awards per questo importante riconoscimento che ci riempie di gioia e ci dà, ed è motivo di grande orgoglio per noi. Sicuramente questa non è una tappa, ma è un punto di partenza e ci deve spronare ad essere sempre più sensibili e attenti alle tematiche ambientali. La nostra scuola sta cercando di far sì che i ragazzi diventino sempre più consapevoli di quelli che sono, di quello che è il bene comune e della legalità. Non a caso nel nostro paese abbiamo anche un testo di libera terra di cui l'ambiente parte integrante ed attiva. Inoltre il nostro paese è conosciuto come la città del miele, ci sono tantissime numerose aziende apistiche che hanno come punto di forza proprio la conoscenza delle api e la tutela della biodiversità e dell'ambiente. Grazie per la visione!